Ciao amici di MTB Mag, bentrovati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi ci occupiamo di reggisella telescopici, in particolare ci occupiamo di come sostituire il cavo di un reggisella telescopico. Prima di entrare nel vivo però, voglio ricordarvi che per tutti quelli che vogliono sostenere il nostro canale YouTube e la realizzazione di questi video, se ritenete che sono utili, potete sottoscrivere un abbonamento, un euro e 90 al mese, è una piccola spesa, un piccolo contributo che però tuttavia ci è molto utile per la realizzazione dei video. Perché va sostituito il cavo del reggisella telescopico? In teoria cavi e guaine non sono particolarmente soggetti ad usura, tuttavia all'interno di cavi e guaine può entrare lo sporco. Il cavo del reggisella telescopico è ben protetto, tuttavia facendo spesso delle curve strette all'interno del telaio o comunque avendo un sistema di aggancio, soprattutto in prossimità della levetta, che gli fa fare un angolo stretto può in molti casi deteriorarsi e talvolta strapparsi accidentalmente. E quindi buona regola, ogni tot, sta a voi poi valutare la frequenza di utilizzo e tutto, ma almeno una volta all'anno, provvedere alla sua sostituzione e valutare se sostituire sia il cavo che eventualmente la guaina. Quest'oggi ci occuperemo di sostituire il cavo e sarò abbastanza veloce nel parlarvi di come sostituire la guaina perché è un'operazione che se non avete il sondino è praticamente impossibile da fare. Quindi se avete attrezzatura giusta in due minuti lo potete fare, ma senza attrezzatura giusta vi conviene rivolgervi ad un meccanico che abbia il sondino perché nei telai moderni far passare le guaine è sempre molto molto difficile. Detto ciò, l'operazione di sostituzione del cavo del telescopico è piuttosto semplice è un'operazione indicata ai principianti anche ed è un'operazione che risolve il 90% dei problemi di malfunzionamento dei registrati telescopici a cavo quando la leva è dura, quando va a vuoto e tutto sappiate che sostituendo o comunque regolando correttamente la tensione del cavo avrete risolto il 99% dei problemi del reggisella. Per effettuare questo intervento dovremo andare a sfilare il nostro reggisella telescopico molto importante se abbiamo determinato la posizione in selle è andare poi a riposizionarlo correttamente motivo per cui prima di fare qualsiasi cosa, operazioni di svitaggio e tutto con un piccolo pezzo di nastro di carta andiamo a segnare con precisione la posizione del nostro reggisella. Molto spesso non è possibile far fuoriuscire il reggisella telescopico a causa appunto dell'insufficienza e della lunghezza della guaina cosa succede? Si trovi una situazione in cui il reggisella non esce perché la guaina va in tensione per evitare di danneggiare la guaina o il cavo in questi casi si procede in maniera piuttosto semplice si svita il comando del reggisella telescopico in questo modo e lo si avvicina all'ingresso sul telaio in questo caso apro tutto il collarino perché poi mi servirà per farvi vedere meglio i passaggi successivi quindi sgancio completamente il collarino freni e il relativo comando del telescopico che sono collegati insieme con il sistema appunto matchmaker apriamo qua, vedete, togliamo il tutto e a questo punto possiamo ulteriormente avvicinarci e dare guaina per estrarre il nostro reggisella telescopico che a questo punto è fuoriuscito qui sulla parte posteriore notiamo subito che è possibile sganciarlo, voilà, e separarlo completamente in modo da poterlo riporre su un banco di lavoro possiamo facilmente togliere il cappuccio, vedete il cappuccio che protegge il terminale del cavo lo togliamo via con una pinza, sfiliamo comodamente il nostro cavo il nostro cavo sfilacciato in punta, vedete, e lo possiamo togliere dalla nostra guaina semplicemente sfilandolo notiamo che in quasi tutte le bici, anzi dire in tutte le bici, la guaina è continua dentro il telaio quindi l'unica nostra accortezza è quella di non farla cadere dentro il telaio per poi non riuscire a ripescare trovandoci in questa situazione abbiamo i due lembi di guaina che fuoriescono e la sostituzione del cavo è estremamente immediata giunti a questo punto del lavoro ci troviamo appunto con la possibilità se lo vogliamo di sostituire la guaina per sostituire la guaina, se lo vogliamo fare dobbiamo dotarci di questo, del sondino specifico per i telai il sondino si avvita sulla guaina stessa da un lembo mentre noi la sfiliamo, entra dentro il telaio e poi permette di far ripassare secondo lo stesso percorso anche la guaina nuova cosa facciamo quindi? Sfiliamo la guaina vecchia mettiamo il sondino, prendiamo la guaina vecchia come riferimento tagliamo una porzione di guaina uguale e la rifacciamo passare dentro al telaio una volta che è dentro al telaio, come in questo caso ipotizziamo sia la guaina nuova inseriamo il cappuccio e possiamo procedere con la sostituzione del cavetto nuovo quando sostituire la guaina? Quando notiamo che è sporca quando ci sono segni di ruggine o comunque notiamo che la scorrevolezza del cavetto non è buona è giunto il momento di inserire il cavo nuovo non credo che sia un'operazione particolarmente complicata l'unica accortezza che dobbiamo tenere è quella di capire da che parte mettere il terminale appunto il barilotto nel nostro caso il cavo si fissa, il clamp si avvita sul manettino quindi il barilotto cosiddetto, chiamiamolo in questo modo, va dal lato del reggisella quindi inseriamo il cavo partendo dal direzione reggisella verso avanti il cavo è bello lungo e facilmente fuoriesce l'altra parte della guaina che cavo ho usato? Un normalissimo cavo per i cambi reggisella utilizzano cavo per cambi da 1 mm 1 e guaina da 4 mm tutti i reggisella utilizzano questo tipo di cavi possiamo procedere con il riposizionamento appunto del cavo all'interno del manettino il posizionamento è preliminare poiché lo andremo poi a tirare regolare in un passaggio successivo quindi ci posizioniamo in maniera ergonomicamente comoda in questo caso metto qui il manettino per farvi vedere ma l'avrei fatto facilmente a comando montato inseriamo il cavetto, vedete, secondo l'apposito percorso previsto dal produttore in questo caso gli facciamo fare anche una piccola curva e tiriamo il cavo fino a che il nostro manettino non va a contatto con la guaina in questo modo notiamo subito che qua nella parte posteriore il cavetto è rientrato nessun problema non avendo ancora bloccato lo possiamo far uscire leggermente di circa 1 cm a questo punto siamo pronti per poter rimontare il nostro reggisella telescopico in questo caso abbiamo appunto il baridotto del cavo che va ad agganciarsi in un'apposita sede e va poi ad inserirsi attraverso un taglio si va posizionato correttamente e poi tirando in maniera piuttosto semplice il cavo là davanti riusciamo a far rientrare la guaina e tenere tutto fermo in sede ed in posizione in questo modo a questo punto c'è la fase un pochettino più critica che cosa dobbiamo fare? dobbiamo tirare la guaina e far rientrare contemporaneamente il reggisella in sede in questo modo perché è importante tirare la guaina è importante tirare la guaina per evitare che questa possa attorcigliarsi all'interno del telaio quindi blocchiamo il cavo in questo modo lo teniamo fermo vedete? gli sto facendo fare la curva lo tengo in posizione così in modo che tutto il pacchetto qua al di sotto sia bloccato e tiro tiro mentre contemporaneamente faccio rientrare il reggisella fino a che altezza facciamo rientrare il reggisella lo facciamo rientrare fino alla tacca che avevamo precedentemente fatto col nastro allineiamo la sella con il telaio con la chiave a brugola di opportuna misura puntiamo leggermente la vite di sarraggio del collarino la puntiamo solo la stringeremo poi dopo con la chiave dinamometrica abbiamo il cavo tuttavia ancora completamente libero è giunto il momento di bloccarlo poiché abbiamo fatto passare la guaina correttamente possiamo quindi procedere al bloccaggio del cavo attraverso l'apposito clamp in questo modo nel caso del comando Shimano adesso ho tolto la vite per farvi vedere un pochettino meglio vedete c'è un'apposita sede il cavo andrà poi bloccato dalla vite che ho rimosso il percorso che deve seguire il cavo è diverso a seconda di ogni comando e quindi andrà valutato caso per caso tiriamo il cavo e cominciamo a bloccarlo sarà successivamente necessario andare a regolare la tensione del cavo quando noi tiriamo il cavetto dobbiamo posizionare il registro praticamente tutto avvitato in questo modo a meno di un giro completo in questo modo avremo il giusto margine di regolazione per regolare correttamente la tensione del cavo quindi vedete tiriamo bene il cavo con le dita in questo modo e poi lo andiamo a bloccare con la chiave da 4 voilà il cavo è correttamente in posizione facciamo una prova del 9? certamente proviamo cominciamo a tirarlo vedete il cavo tira e se io tiro il cavo il reggisella sale e scende sale si blocca scende anzi si blocca tiro e risale la tensione del cavo è corretta naturalmente io adesso per complicare un po' le cose per farvi vedere più che altro come funziona ho smontato il manettino ma tutto questo si può fare in maniera molto più semplice semplicemente fissando il tutto al manubrio e lavorando da sotto la leva è perfetta facciamo i dovuti aggiustamenti se vogliamo leggermente tirare e rendere eliminare un pochettino di corsa a vuoto ma in questo caso è già tutto perfetto non ci resta quindi che tagliare l'eccesso del cavo e metterci un cappuccio un cappuccio che si fisserà un cappuccio colorato in questo caso lo mettiamo rosa per evitare che il cavo si sfilacci va applicato sulla parte terminale un cappuccio l'operazione è praticamente terminata non ci resta che verificare il corretto sarraggio del nostro appunto collarino reggisella con la chiave dinamometrica la chiave dinamometrica la chiave dinamometrica ci permette di stringere correttamente questo collarino è una chiusura critica in realtà tutti dicono il collarino sella si può stringere come si vuole in realtà con i reggisella telescopici questa chiusura è critica troppo stretto strozza il tubo e ci impedisce un corretto scorrimento del reggisella una cosa molto importante da tenere in considerazione è che quando si monta reggisella bisogna utilizzare l'apposito prodotto nel caso di telai carbonio la pasta bloccante per il carbonio nel caso di telai in alluminio nel grasso bianco al litio o anti-sides perché utilizzare il giusto prodotto? nel caso esempio dei telai in carbonio è importante utilizzare la pasta per evitare di dover stringere eccessivamente il collarino sella e strozzare il fodero del reggisella telescopico il tubo più esterno la pasta per il carbonio aumenta il grip incolla il telescopico dentro il telaio e quindi permette di poter utilizzare una minore copia di serraggio riducendo il rischio di danni al reggisella invece nel caso di accoppiamenti alluminio alluminio il grasso serve ad impedire che reggisella si incolli dentro il telaio quindi che si grippi rendendone poi estremamente difficile la rimozione quindi il grasso in questo caso serve come anti-grippante per prevenire l'ossidazione e l'ingresso di sporco come dobbiamo invece comportarci nel caso in cui ci troviamo quei reggisella che hanno il clamp al di sotto del reggisella solitamente il clamp è costituito da una specie di cilindretto con una o due granetti che pizzicano il cavo questo cilindretto ha un piccolo foro che si infila sul cavo si monta prima tutto dal lato reggisella e al di fuori del telaio ci si trova in una situazione di questo tipo con il moncherino di cavo che fuoriesce più lungo e questa morsa immaginate sia il telario della bicicletta come si fa a determinare la giusta distanza del barilotto rispetto al capoguaglia? beh si deve procedere a tentativi allora innanzitutto o comunque con un apposito strumento beh innanzitutto infiliamo il barilotto sul cavo barilotto che se non entra semplicemente va svitato a questo punto se ce l'abbiamo in officina possiamo prendere questo piccolo strumento che è quello che viene fornito con il corregisella telescopico da nuovo per determinarne la distanza vedete si inserisce a guai in questo modo e questo strumento determina in maniera piuttosto precisa la distanza tuttavia se non ce l'abbiamo a disposizione possiamo piuttosto semplicemente calcolare all'incirca un dito di distanza vedete qua con un dito di distanza siamo abbastanza a posto come procedere quindi poi con il taglio della guaina? allora innanzitutto posizioniamo il nostro barilotto calcoliamo la distanza di un dito e lo abbassiamo leggermente ma di davvero pochi millimetri lo puntiamo giusto da non bloccarlo e con delle tronchesi piatte eliminiamo l'eccesso di cavo in questo modo l'operazione è piuttosto semplice se siamo bravi e riusciamo a fare un taglio filo tanto meglio ma altrimenti svitiamo leggermente facciamo risalire leggermente il nostro cilindretto il nostro barilotto fino a che il cavo tagliato non è a filo e procediamo quindi al serraggio completo e definitivo del tutto sarà possibile con il registro presente sul malettino regolare appunto il corretto tiro in modo che il comando funzioni correttamente con questo vi saluto e vi ricordo che se mi volete venire a trovare mi trovate sempre qui da Bike Lab a Torino Strada della Pronda 39 e per il resto vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo Video Tech Corner se invece volete continuare la visione qui e qui trovate interessanti contenuti correlati ciao a tutti e appuntamento al prossimo Video Tech Corner